Le transenne dell'eventuale chiusura del centro storico sono lì per vedere tutta la delusione dei tifosi, siamo in piazza museo, quindi pieno centro storico della città, sotto la pioggia che regna il città ancora più triste, nonostante sia semplicemente un ringhio di fatto della festa. Ho potuto sentire numerose lamentere per quanto riguarda i servizi di trasporto pubblico, vedo gente che chiama un taxi, prova a fermare un taxi ma nessuno si ferma e dicevo che ho sentito parecchie lamentere in merito all'assenza di servizio pubblico di trasporto pubblico. Ho avuto una carenza del rapporto pubblico e vedremo come andrà la situazione per mercoledì e giovedì in attesa dei risultati della Lazio e anche della Juve e ovviamente del Napoli. A Udine